manca poco più di un mese alla consegna delle capanne degli stabilimenti balneari classico inizio della stagione calda e c'è il rischio che la piscina olimpionica di sottomarina non apre i battenti durante l'estate a riportarlo il consigliere del pd jonathan montanariello che incidentalmente durante una seduta di commissione ha chiesto di affrontare il tema da un anno il comune era conoscenza della necessità di dover praticare interventi di manutenzione alla struttura rimasta tuttavia aperta nell'estate 2018 a fine anno era scaduta anche la gestione in capo alla società affidataria ma ancora non si conosce se i lavori verranno effettuati né se il comune si adopererà a diramare un bando per garantire l'apertura nei prossimi mesi la stessa impresa che ha curato la piscina negli ultimi anni programmando anche un discreto numero di eventi serali non ha notizia da settembre ormai le discariche a cielo aperto nel territorio comunale di chioggia non si contano più la segnalazione più recente arriva da un residente di via morosini a sottomarina ovvero una delle laterali di viale mediterraneo che porta verso i campeggi da qualche tempo alcune aree esterne ai campi coltivati sono invasi da rifiuti plastici meccanici edilizi agricoli conferiti anche da chi non abita la zona ma è a conoscenza del fatto che già altre immondizie vi sono state riversate a quanto pare la loro rimozione da parte di veritas non può avvenire senza il consenso del proprietario del terreno ma ci si chiede se non sia il caso di derogare al protocollo e stabilire l'uso della forza maggiore per motivi di igiene ambientale oltre a individuare i trasgressori e combinare pesanti ammende a partire da oggi martedì 9 aprile e fino a venerdì 12 è attivo il restringimento della carreggiata lungo la strada 309 romea nella fascia olaria dalle 6 e 30 alle 18 e 30 in corrispondenza del ponte sul brenta ovvero dal chilometro 84 916 al chilometro 85 125 per lavori in corsa ad opera di anas relativi all'ispezione del ponte propedeutica successiva manutenzione straordinaria il transito garantito nei due sensi di marcia seppur a velocità limitata la nostra preoccupazione commenta il sindaco alessandro ferro è limitare ai massimi disagi durante l'ormai imminente stagione estiva per questo suggeriremo ad anas di mantenere anche per tutta la durata dei lavori il transito nei due sensi di marcia senza dover prevedere un senso unico alternato verificheremo nei prossimi incontro tra qualche giorno se questo sarà effettivamente possibile il comparto ittico è attualmente al centro di studi che coinvolgono tutti gli attori dalle imprese agli enti passando per le università ai centri di ricerca spaziando fra le innovazioni di prodotto e di processo la creazione di reti e gruppi a livello nazionale internazionale l'ipotesi di lobby in risposta a cambiamenti normativi la riduzione dell'inquinamento e la salvaguardia del mare per approfondire questi temi giovedì 11 aprile a partire dalle ore 16 nella suggestiva cornice di palazzo grassi a chioggia avrà luogo la tavola rotonda a bordo dell'innovazione verso l'ittico del futuro imprese enti e centri di ricerca si confrontano che avrà appunto come focus lo sviluppo del settore l'iniziativa si inserisce all'interno del progetto di incoming di operatori stranieri che si svolgerà l'11 e 12 aprile organizzata dal consorzio distretto ittico di rovigo e chioggia con il sostegno diretto della camera di commercio di venezia rovigo in collaborazione con il nuovo centro estero veneto e patrocinio della città di chioggia il progetto lo scopo di favorire nuove opportunità di business fra le aziende del distretto e 16 buyers di importanti aziende provenienti da bulgaria repubblica cecca svizzera serbia e belgio attraverso la realizzazione di colloqui personalizzati coi produttori l'italia è il secondo paese dopo la spagna per consumo di pesce passato in pochi anni da 17 a 24 chilogrammi pro capite annui i paesi che abbiamo coinvolto quest'anno dice massimo barbin presidente del consorzio distretto ittico di rovigo e chioggia rappresentano un'ottima opportunità per il comparto in quanto si tratta di nazioni per la maggior parte senza il mare e con un'economia in forte crescita attualmente il 70 per cento della popolazione mondiale non arriverà mai a cure adeguate la distanza tra i popoli si misura anche da questo smile mission on us proviamo ad accorciare le distanze ancora un incontro pubblico del partito democratico di chioggia in materia di sanità e specificamente delle nuove schede ospedaliere in via di approvazione al consiglio regionale mercoledì 10 aprile dalle ore 18 nella sala polivalente del municipio di chioggia il pd affronterà per l'ennesima volta i temi dei probabili tagli di posti letto e primariati all'ospedale dialogando con i cittadini e con gli operatori della sanità oltre ai vertici locali sarà presente il consigliere regionale bruno pigozzo impegnato evitare il declassamento del nosocomio clodiense amici carissimi dato che azzurra e meteo brollo un buongiorno bagnato a tutti voi dunque una settimana che si prospetta bagnata instabile molto variabile proprio perché una grossa lacuna barica in atlantico favorirà la discesa di diverse diversi minimi barici in ambito mediterraneo che saranno responsabili a più riprese di situazioni appunto piovosi instabili per buona parte della settimana ovviamente anche oggi sarà più o meno come ieri proprio perché la depressione che lentamente si è spostata verso i balcani continuerà a influenzare ancora per 18 24 ore tutta la parte adriatica portando spesso e volentieri nuvolaglia sparsa sul nostro territorio e bagnandolo anche un po con frequenti episodi piovosi un po qua e là distribuiti in maniera molto irregolare sul territorio come è avvenuto appunto ieri una situazione quindi vi dico molto dinamica però variabile instabile che darà i suoi massimi frutti tra mercoledì e giovedì quando una ulteriore perturbazione atlantica entrerà naturalmente nelle regioni occidentali e piano piano invaderà anche le nostre zone apportando una fase di maltempo piuttosto cospicuo tra mercoledì pomeriggio e giovedì mattina laddove avremo la massima diciamo piovosità che è stata un pochino ritrattata nelle ultime ore ma che comunque darà ovviamente qualche millimetro di pioggia anche appunto in quei giorni lì ovviamente poi andremo verso miglioramento tra venerdì e sabato ma lì staremo a vedere perché ci sono delle novità che vi tengo in servo per le prossime edizioni quindi anche le temperature non aumenteranno rimarremo tra i 7 8 notturni e i 12 13 diurni in assenza appunto di sole quindi una primavera naturalmente più normale di quello che è è stata con temperature decisamente autunnali ciao a tutti ci sentiamo domani